Un buongiorno a voi da posto, Professor Strons, Miao Miao. Titolo Il ladro e il principe. Ad un panzo aristocratico, un ladro si intuffola tra gli invitati e riesce ad ottenere un posto a tavola di fianco al principe di casa Savoglia. Dopo i preamboli e i saluti agli amici, ogni commensale dialoga con il vicino. Il principe comincia a parlare col ladro e con fare decisamente coronesco gli dice Io sono un futurista, amo lo sport e faccio il ciclista. Mio figlio è un affarista e per hobby culturista. Mia moglie è una surfista. E lei? Il ladro spiazzato è alquanto confuso, pensando di allinearsi con il rimare del principe per trovare una risposta degna, gli dice Io sono un grande tempista. Ciao. Ciao.